Bozzalla Giuseppe nasce a Biella il 2 marzo 1874. Venne introdotto dal pittore delle Ani che lo indusse ad entrare nell'Accademia Albertina di Torino, dove frequentò tutti i corsi, avendo per maestro di figura Giacomo Grosso. Uno tra i suoi primi quadri, Tra colori e vapori, del 1905, ispirato al lavoro manuale, venne acquistato dal re, il paesaggio fu così ben presto il suo genere preferito. I quadri più noti sono, Sorrisi d'autunno, Sull'altipiano, Pascolo autunnale, Vendemmia nel Biellese, essi non ripetono gli schemi del delle Ani, ma sono creazione ed interpretazione della natura da parte di un artista raffinato, rigoroso nella forma, personale nei toni e nel disegno. La sua frequentazione in Liguria è documentata da numerose opere e bozzetti dal vero, interessanti piuri suoi pastelli, per immediatezza di esecuzione e freschezza compositiva. Bozzalla Giuseppe, si spense a Pollone il 14 febbraio 1958. Bozzalla Giuseppe, si spense a Pollone il 14 febbraio 1958.